Sono sempre stato fissato con le decorazioni di Halloween degli anni 60, le lanterne in carta pesta e come vedete anche un sacco di libri e quest'anno ho deciso di realizzarle finalmente Ho usato del DAS, ho usato del Vinaville, dei colori acrilici Ho lavorato su delle bull di vetro come vedete, ho fatto uno strato di carta, ho creato i lineamenti a rilievo con il DAS Ricordarsi di bagnare sempre le dita per dare un effetto più liscio Ore e ore al sole ad asciugare, intanto io mi portavo avanti anche con le altre più piccole A gatto e fantasma Poi sono passato allo stucco che gli dà questa texture che ricorda davvero le lanterne di carta pesta che abbiamo visto prima nei libri Ancora asciugare un 5-6 ore Qualche ritocchino ancora e qualche strato di stucco Passiamo ai colori acrilici Io ho dato un po' di sfumature con vari arancio e giallo Qui vedete anche le altre Bianche ad asciugare al sole Ho finito tutti i contorni con questo pennarello smalto nero Se voleste rifarle ognuno sceglie il proprio carattere Eccola, posizionata No, sono proprio soddisfatto No, sono proprio soddisfatto